Nella puntata del 17 ottobre del Talk Show Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, l'artista Ivana Spagna ha rivelato la sua sensibilità al paranormale. Durante l'intervista, la cantante ha ammesso di possedere una particolare abilità che le permette di percepire presenze di individui deciduti, sia durante la veglia che nei sogni. «Quando lasciamo questa vita, entriamo in un'altra dimensione, ve lo dico perché li ho davvero visti», ha spiegato Ivana Spagna alla conduttrice. Ha detto di essere in grado di percepire la presenza delle persone defunte, anche se non riesce a distinguere i loro lineamenti, ma coglie dettagli come il pallore del viso e i particolari del vestito. Francesca Fagnani ha indagato ulteriormente sulle circostanze di queste visioni, chiedendo se si manifestassero durante la veglia o durante il sonno. Spagna ha risposto che queste visioni le capitano da sveglia, solitamente alle 5 del mattino. Ivana Spagna ha condiviso un'esperienza specifica in cui ha visto una donna inginocchiata che scriveva nel suo salotto, ma ha rivelato che non riesce a comunicare con queste presenze quando si manifestano nella realtà. Tuttavia, nei sogni, riesce a ricevere messaggi da loro. L'argomento del paranormale si è concluso con Francesca Fagnani ricordando a Ivana Spagna come avesse dichiarato in passato che quando sognava i suoi cari ridere, qualcuno moriva. La cantante ha confermato questo, rivelando il terrore che prova in queste situazioni. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.